Quest'ultimo DPCM di Conte ci dimostra che siamo in dittatura, è un vero colpo di mano, altro non è se non un lockdown mascherato, quello che ci impone il Premier. Misure drastiche che colpiscono ristoranti, bar, pub, gelaterie, centri benessere, palestre. Mi domando cosa abbia fatto il governo in tutto questo periodo, perché non è stato capace di studiare misure alternative, misure che prevenissero, che evitassero questo lockdown in termini di sanità, in termini di scuola, in termini di trasporti. Si chiude tutto ma non si pensa per esempio ai rischi che si corrono nei trasporti. Allora mi domando che senso ha chiudere ristoranti, bar e quant'altro e invece vedrete durante il giorno gli assembramenti che ci saranno e già ci sono sui mezzi pubblici. Mi domando che senso ha per esempio tenere chiuse le palestre. Anche per quanto riguarda le scuole che senso ha i ragazzi degli ultimi tre anni, per i ragazzi degli ultimi tre anni la didattica a distanza, invece gli studenti delle scuole elementari devono andare, deve esserci la didattica in presenza. Tante stranezze, perché chiudere i ristoranti, i pub e quant'altro, invece i centri commerciali possono restare aperti. Perché dalla serie A alla serie D si può giocare e invece le attività sportive minori vengono impedite. Mi domando perché non si sia fatto nulla in termini di sanità, perché non si è fatto uno studio per potenziare il pronto soccorso, per potenziare le terapie intensive. Questo è un governo, un governo di incapaci, un governo che per comunicare aveva bisogno di Fedez e della Ferragni.